Il risparmio Il risparmio è una somma di denaro messa da parte per essere utilizzata in futuro. Tutti possono risparmiare. Persone singole e famiglie. Il risparmio può servire per spese pianificate o in caso di emergenza e difficoltà. Avere dei soldi risparmiati permette di fronteggiare immediatamente queste situazioni senza dover chiedere un prestito. Per risparmiare bisogna Aumentare il reddito Tagliare le spese Tagliare le spese, in questo periodo di crisi, è soluzione più semplice. Si può iniziare ad eliminare le spese superflue come Colazioni e caffè al bar Vizi Cene fuori E abbonamenti alla pay tv E poi risparmiare sulle spese necessarie Usando gli elettrodomestici alla sera Confrontando i prezzi al chilo degli alimenti Scegliendo soluzioni alternative all'auto Le regole d'oro per risparmiare sono Paga prima i debiti Metti via il denaro appena arriva lo stipendio Crea un piccolo fondo di emergenza per far fronte ad eventi inaspettati Inizi a risparmiare il prima possibile Per risparmiare serve disciplina La disciplina si impara con la pratica La disciplina si impara con la pratica La disciplina si impara con la pratica